Ciao e benvenuti in un nuovo video sul mio canale Oggi pensavo Ma se The Hall fosse stato girato in Toscana? Ovviamente il film non è stato girato in Toscana Però qui alle gorette Abbiamo dei bunker della seconda guerra mondiali Che ricordano veramente tanto 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 quello del film Andiamola a vedere E a me ragazzi ricorda tantissimo Ma veramente tanto E ne va tutto in testa Ricorda tantissimo il bunker Di The Hall Dove I quattro ragazzi restano intrappolati Dentro un bunker della seconda guerra mondiale C'è una cosa fantastica Più che altro era questo sotto Ok Vabbè quello lì del film Aveva il mega copertone di metallo Però vabbè Ma c'è ma che figata che è Qui alle gorette c'è un sacco di bunker Della seconda guerra mondiale Veramente tantissimi E questo è un altro Però è recintato No vabbè Forse era come ora Sono diventate delle cucce Di alcuni lupi Dato che qui ce n'è Veramente tanti Qui infatti ci ha scavato O un lupo o un cinghiale Aaaaaah Il video termina qui Spero che vi sia piaciuto E ci vediamo al prossimo episodio Ciao 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 Ciao